Ciao, ciao, ciao. Allora, spiegami tutto. Perché è innaturale secondo te? Per me è la cosa più meravigliosa del mondo, è l'unico motivo per cui potrei votare Macron, è questa roba qua, lo sai come la penso. Infatti è pieno il mondo di persone 39 sposate con persone 64, no? No, ma non è pieno il mondo, assolutamente no. Ma l'amore non è che puoi mettere delle barriere? Non è pieno il mondo perché naturalmente non è naturale, perché di solito un uomo cerca una compagna più giovane con cui figliare la natura porta a questo. Ma chi l'ha detto? Se lei ha già dei figli e non vuole... Ma l'attrazione fisica e l'amore non è che dipendono dall'età, è uno po' che innamora... E allora... Ma che uccano? Nella condizione di naturalità, l'istinto porta a cercare la compagna con cui... Ma chi te l'ha detto? Scusami. Non dico io, dice la natura. Però Mario, Mario, certamente la maggior parte delle coppie... Non la maggior parte, la stragrande. La stragrande maggioranza delle coppie sono coppie che più o meno... Perché sono dei conformisti? No, ma ciò spiega il mistero dell'amore però, ma che vuol dire? Ognuno si innamora di... Sono dei conformisti, sono persone che seguono l'istinto naturale, che è ovviamente quello. Poi possiamo raccontare che la storia, diciamo così, particolare... Ma è un cattivo esempio, secondo te? Questo qua è un cattivo... puoi dire che è un cattivo esempio? No, io volevo semplicemente dire, quello che poi dopo si dice in Francia da mesi, non ho fatto nient'altro che riassumere una parte del dibattito... Beh, insomma, a modo tuo... Ho scritto otto righe, non mi sembra di aver fatto una cosa così drammatica... Beh, ma dovresti essere contento che si parla delle cose di cui scrivi, eh? In Francia si dice che questo elemento copre in realtà qualcosa che non va nella personalità di Macron. Cioè, hai dato del frocio a Macron, dai, su, hai dato del frocio a Macron. No, ho dato del frocio a Macron. In Francia si dice che lui sia con il capo di Radio France, ha dovuto addirittura fare una... Sì, in Francia... Cioè, è un dibattito che c'è. D'accordo, però voglio dire, ma secondo te è così? Lui è omosessuale? Ma io credo che qualcosa che non va in una personalità che, ripeto, a 39 anni sta a cuore di 64, ci dia. Uno che rinuncia di essere padre, uno che si fota con uno che diventa nonna... Beh, vuol dire, vuol dire, vuol dire. Cioè, tu dici che non sta tanto bene, hai detto. Nella mia opinione io dico che secondo me non è uno che non sta tanto bene. Cioè, secondo te è uno instabile, diciamo? Cioè, non è in grado... Io voglio dire... Dell'instabilità è che sia etero-diretto da brici. Etero-brici? Ma io non ho capito. In tutta franchezza che dove votare un Presidente della Repubblica che si fa dire il tono della voce che deve utilizzare dalla moglie di 64 anni sia una questione che politicamente va disposta. Politicamente? No, però vuol dire, lui sta dicendo... Ma chi se ne va tirando i conti? No, lui però... Scusa, io adoro... Ma nello stato degli attollati, in Olfi, si parla di chi si mette nel letto il futuro premier. No, però è vero, è vero. Ma è una discussione politica. Come si parlava di Hollande traditore? Come si è parlato di Hollande troppo leggero? Lui la mette con una discussione... Scusa, la differenza fondamentale è questa. La personalità di Hollande è stata violata evidentemente da sua autorevoletta da rincorrere l'articcetta col motorino. E' accostato il partito socialista francese... Ma figuriamoci se è stato quello. Ma figuriamoci se è stato il suo non-governo. Ma è stata la fuitina di Hollande che ha accostato le elezioni. Scusa, scopate i Berlusconi. Ma di chi si parliamo? No, è vero, dai ragazzi. Chi si parliamo? Su questo ha ragione Mario. Ha ragione Mario, la personalità di una... Ma non fate finta che non è vero. Ma tutte le cose che sono surreali, stavate lì, eh? No, no, no. Perché mi pare che la presenza dell'amore con questa signora Brigitte, più vecchia di lui, di 25-28 anni... Ma la discussione di attura politica non è attivatura dell'amore. E questa è la cosa folle. Che tu poni una questione politica sotto le lenzuola di Macron. Macron, ma perché infili... Ma perché infili? No, però scusa, vi voglio interrompere un'altra. Ma perché è diverso? Lì c'era una questione con delle ipotetiche minorenni. Era un presidente del Consiglio. Ma certo. Ma anche lui... Ma perché devi... Anche lui era... E che reato avrebbe commesso Macron? Anche lui è minorenne quando lei è professoressa. E infatti non ci si è fidanzato. Se lo tirano... E non era premier. A 17 anni non era premier. Ma io voglio capire, ma... Siete curiosi, ma perché devi infilare il tuo naso... Io non sto dicendo nulla. Non tu, Giuseppe. A di noi si infila il suo naso dentro le lenzuola di Macron. Ma mi pare una roba folle. Mario, in un altro paese, quando una professoressa... Una cosa incredibile. Una professoressa si mette... Va in galera. Va in galera. Non si è messa. Ma perché date fake news? Non si è messa. Che ne sappiamo. Si è una fake. Ma avete letto quello che... Ma guarda che incredibile. E' dovuto andare dai genitori di 16 anni a scusarsi... Traumatizzato. Mi pare sia rimasto traumatizzato. Hanno allontanato Macron dal comune dove si trova e l'hanno mandato a scusare a Parigi. Non l'hanno allontanato. L'hanno studiato a Parigi e che l'hanno allontanato. Ma dove sarebbe lo scandalo? Non riesco a capire. Ma qual è lo scandalo? Lo scandalo c'è stato. Su questo non c'è dubbio che c'è stato. Qual è sarebbe? Mi spiegate lo scandalo. Ma spiegatevi lo scandalo. Ma tu a me non me ne frega niente. Mettete i vostri nasi dentro le lenzuola di Macron. Scusami. No, ma non me ne frega niente. Scusami, Davide. Scusami, Davide. Scusami. Cioè, questo signore oggi ha 39 anni. È innamorato da quando ne aveva 17 della sua ex insegnata di Deacqua. 15. 15. Quando era 17. D'accordo. Scandalo incredibile. Benissimo. No. A un certo punto. Questo signore arriva al ballottaggio. Arriva al ballottaggio. E oggi ci interessa che l'amico Adinolfi metta il suo naso. Quello che dice Macron, effettivamente dice tutto il controllo di tutto. Per cui è evidente che ci interessa. I media francesi affrontano questo no. Lo affrontano da un punto di vista del gossip. Scusami. Non della politica. Fermi tutti. Da un punto di vista del gossip. Del colore. Mario, tu potresti dalle penne in Francia? Farei molta fatica, ma credo potresti schierar bianco perché Macron non riuscirei veramente a votare. Non riuscirei a votare. Ma ancora le penne voti allora? Ma le penne ovviamente insomma ha una storia molto particolare. Meno male che qualche argine gli è rimasto. Però la fortuna nostra è che siamo spettatori di tutto questo. Quello che dovrebbe interessarci è vedere se quella roba deve trascimare in Italia o no. Che è una cosa interessante. Quella roba cosa? Sì, il nulla. Però invece voglio capire da Adinolfi. Il Donald Trump è il portato del... Le ragazze... Scusami, scusami. Il contrario invece fa scandalo. C'è una ragazza che capita molto spesso. Ecco perché un uomo invece... Che si mette... Una ventenne che si mette con un sessantenne. Perché nella natura il sessantenne è molto spesso ma finiti con quella ventenne. È più naturale, dici. È più naturale. Bene, quindi se tua figlia ti portasse a casa, ti portasse a casa Emanuele Macaluso ad esempio, o un altro signore, o un ottantenne, o Rocco Buttiglione, ecco. Se tua figlia si portasse a casa il settantenne Rocco Buttiglione tu saresti contento. Le ragazze di Adinolfi sono cresciute bene. Sono figlie allevate. Però spiegami perché trovi normale che una ventenne si metta con un sessantacinquenne. Spiegami. Non lo trovo normale. Spiegami. Le ventenni con i sessantacinquenni sono rarissime. Quando capita molto spesso... Sì, sì. Cosa voglio sapere da te, Mario? Bergoglio? Bergoglio sta facilitando l'invasione degli immigrati, come dice Salvini? No, non credo però. Cioè, queste sono... Però ti ho visto un po' anti-Bergoglio te, eh. Ti ho visto un po' anti-Papa. No, mai. Trovami una frase che ho detto... Senti, un'altra cosa. Oggi si sposano, anzi, no, il 27 aprile si sposerà un transessuale che non ha cambiato sesso. Ah, questa è un'altra carnevalata divertente. Ma perché carnevalata? Questo qua non ha cambiato sesso. Nel senso, c'è ancora l'uccello questo qua. Perché è un uomo. Ma c'ha la carta d'identità diversa, ha già la carta... Ma io non c'è più a discutere dei comunicati stampa fatta dall'associazione trans che fa la carnevalata... Vabbè, ma si sposano, qual è il problema? Si sposano, qual è il problema? Ma dovreste essere a favore dei matrimoni, è solo pubblicità. È pubblicità puttanate. Ma magari si sposano perché si vogliono bene, si amano. Non si possono sposare, è un uomo. Ma no, nella carta d'identità ormai è donna, prenditi, è donna. È un uomo nel cromosoma, nel fisico. Ma che te ne frega a te? Ma io non ho capito, ma finché cambia la giornata? Ma che te ne frega? E allora, lascia che si sposino, si vogliono bene due uomini e che si sposino. Anticolo 29 della Costituzione, la famiglia è societaria. Allora, quel matrimonio lì andrebbe proibito, andrebbe fermato secondo te? Ma certo, andrebbe fermato. In che modo? Con i carabinieri? Con che cosa? Ma credo che l'ufficiale Stato civile davanti a una persona che è un maschio, ha tutti gli effetti un maschio. Deba dire no, debba dire no. Comunque, guarda, i matrimoni che per adesso sono stati pochi. Dunque, di che paura avete? Cioè, non è che distrugge la famiglia, distrugge la società. Dovete capire, ma io non ho paura. Io guardo questo carnevale e dico, ma questo carnevale che bisogno c'è? Ma perché devi offendere chi ha un amore diverso da te? Ma io non ho capito, veramente. No, no, no. Lui dice che non si possono sposare. Ho capito, ma io gli ho pietto che... Tutti si possono innamorare di chi vogliono, questo è ovvio. E allora? L'istituto del matrimonio, che esiste dal codice di Hammurabi, non è una cosa che si è inventata di nonosti nel 2017, è un istituto che serve a tutelare fondamentalmente... Quello è il codice tuo, quello di Hammurabi, tu. Dal codice di Hammurabi... Allora, un'altra cosa, Mario, Mario, un'altra cosa, hai fatto incazzare gli animalisti nei giorni scorsi, ti faccio sentire, no, dicendo che gli animali non hanno un'anima, perché le scaloppine, gli animali non hanno un'anima, eccetera, ti faccio sentire una roba, ti faccio sentire una roba... Io trovo intollerante questo attacco alla moglie di McConaugno, semplicemente perché non è una cosa folle. Allora, sai che oggi c'è stato un posto a Prato dove hanno fatto il pranzo dei partigiani, gli animalisti sono andati a rompere i coglioni, dicendo che l'Ari sta col maiale, non si può... L'Ari sta col maiale, non si può mangiare. Allora, un gruppo vegano ha chiamato questi signori partigiani. Senti cosa succede, senti, senti, senti. Pronto? Sì, buongiorno. Ho fatto il numero giusto per il pranzo del partigiano? Sì, magari un po' in ritardo, però il numero è giusto. Voi non vi vergognate a festeggiare la liberazione mangiando cadaveri di esseri viventi? Gli avete già mangiati e non ha niente da ridere lei. Guardi, io mi permetto di ridere come e quando mi pare. La ringrazio, è un simpatitone. Guardi che... Le faccio i miei migliori complimenti. Guardi che... Questa volta mi telefoni un numero... Guardi che gli animali fanno... Con chi? Pronto? Facile sbattare il telefono in faccia. Lei sappia che anche gli animali fanno la resistenza. Lei si deve vergognare come tutti quelli. Questo vuol dire infangare. No, lei si deve vergognare. Vergognatevi a mangiare la rista. Vergognatevi. Pronto? Avete mangiato? Avete finito? La maiala di Tomassi, si è mangiato la maiala di Tomassi. Era buona, ma anche il porco di Topaz si è mangiato. Ciao. Festeggiate la liberazione così? E tre ore mi chiama, dice avete... Vergognatevi. Ma chi? Ancora te l'acqua. Perché questo è per me di vegani. È da stamani. La mia specialità è lo squirting. Amore. Beh, amica mia, Farenzo! Spruzza di acqua. Dalla vagina, ed io mi preoccupai. Sprucciari, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore. Mi disse, non è niente. È nettare d'amore. Farenzo! No, io faccio altre cose. Io cago a dosi e criei. La zanzara. Máxima extraccione, minima penetraccione, c'è pa' bon. Máxima penetraccione, c'è pa' bon. Trebo. Trebo. In questa trasmissione, che è il top, caro Parenzo, del libertinaggio amoroso, non possiamo che ospitare ogni tanto Mario Adinolfi, il quale ha espresso le sue idee, come avete sentito, sulla Premier Mam, quella che chiama la Premier Mam, se Macron dovesse vincere le elezioni. Tutti quanti dicono che è molto facile che vinca queste elezioni francesi, caro Parenzo, il signor Macron. Speriamo. Speriamo. Speriamo, no, io non spero. Io ho detto, in Francia... Su quanto non sarei così sicuro, eh? In Francia io voterei... La partita è aperta. Tranquillamente per la signora Le Pen, non mi faccio tutti questi scrupoli che si fa di noi sulle Le Pen. Per carità, ognuno vota quel che più lo rappresenta, non c'è problema. Allora, Elton John sta molto male, caro Mario, pare che abbia un'infezione, non so in che Con tutto quello che gli ha augurato. Spero che l'abbia superato, mi spiace molto. Forse, forse addirittura alcuni dicono mortale, però io voglio chiederti una cosa, gli animalisti ti hanno massacrato dopo alcune frasi che hai detto, per me è assolutamente normali, come sai, assolutamente normali. Io mi spingo, non dico un po' oltre, a dire una cosa. Bisogna affermare in maniera chiara, netta, la superiorità dell'uomo sull'animale, ma non perché l'animale debba essere trucidato, debba essere maltrattato, eccetera, eccetera. Perché è così, ragazzi? L'uomo... Ma questo è ovvio. Diciamolo. Non c'è un grande proclama, l'uomo è superiore all'animale, questo è ovvio. Ma no, ma sai, molti mettono sullo stesso piano. Senza ombra di dubbio. L'uomo è l'animale, l'uomo è capace... Ancuna volta, non fatevi incantare dalle carnevalate, il 99% delle famiglie, il giorno di Vasco, ha mangiato carne allegramente, di unire a torno a un tavolo... Questo non c'è dubbio. Le carnevalate, sono carnevalate. Adesso che c'entrano le carnevalate con i transi? I transi è una cosa concreta. No, ma anche gli animali hanno lo stesso tipo di meccanismo. L'idea è che l'autodeterminazione possa far scambiare ciò che è per ciò che non è. Allora, l'uomo è superiore all'animale. Questo è. L'animale è superiore all'uomo. Questo non è. Fine, non è una discussione. No, soprattutto l'animale è spesso al servizio dell'uomo. Questo è il punto fondamentalmente. Ma ovviamente, senza spesso, è al servizio dell'uomo. Ovviamente è così. E poi comunque è tipocrisia. Ma spiegate sui sorsi, sui zanzare, sui pastegane, su quelli che cosa succede. Lì si tutelano, non si tutelano, si può mettere il topicida o non si può mettere il topicida. Quindi è roba totalmente folle. I più incoerenti dicono che i sorsi non si ammazzano. Se nutrono, si curano, si devono portare a casa e tutelare. Allora, con questo abbiamo ucciso l'umanità. Se facciamo questo, uccidiamo l'umanità. Ma anche senza cucinarli, l'umanità muore. Molti non lo sanno. Se non si allevano e poi si uccidono, purtroppo, moriamo tutti. Questo è abbastanza chiaro. Se i bambini non sono notiti con carne, non hanno quell'apporto proteico fondamentale alla loro crescita. Ma tu, chi educa in modo vegano i bambini, che cosa faresti con questi qua? No, no, andrebbero assolutamente segnalati almeno per verificare che il bambino cresca tutti gli apporti nutritivi di cui ha bisogno. Cioè, andrebbero messi in galera? Io lo dico, non messi in galera. Attenzionati sì, però bisogna vedere. Segnalati, segnalati. Attenzionati è un termine da questura. Se tu fai male a un bambino, se tu fai male a un bambino, se tu fai male a un bambino, e questa cosa è un suprematerio per la società. Quindi se tu non fai mangiare carne a un bambino, è il gineghi, l'apporto proteico determinante per la crescita. Segnalato, segnalato immediatamente. Segnalato. Ora, su questi punti, non facciamoci fregare dalle mode. Le mode passeranno. Comunque, l'altro giorno, un prete ha suonato le campane a morte per la questione del biomarker. Ragazzi, una vera... Ma che tutti i preti? Quattro scannagatti, dai. Ma che tutti? Erano quattro imbecilli, dai. Uno ha detto che la vita non è la mia. Cazzo, io della mia vita posso fare quello che mi pare. Ma ci mancherebbe altro, certo. Se mi voglio ammassare, se mi voglio suicidare, do perché sto male, perché soffro. Questo corpo qua è mio, cazzo. Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Mario, sei così intelligente? Non capisco perché non affermi questo. Questa è la tua valutazione. Per un sacerdote, per un sacerdote, la valutazione è diversa. No, ma ci negate un diritto. E tu rispetterai la valutazione è diversa del sacerdote. Adinolfi, ci stai negando un diritto, che è il nostro diritto di disporre del mio corpo, del nostro corpo. Tutti potrebbero disporre di tutto. Nessuno nega niente a nessuno. No, perché oggi non mi è possibile praticarmi il suicidio assistito oggi. Non è possibile. Che l'ordinamento svizzero sia un ordinamento da importare in Italia, cioè il uccidere a pagamento. Ma che uccide a pagamento? Il sofferente, così funziona. L'ordinamento svizzero è quello. Io dico che quell'ordinamento è barbarico e infinito. Barbarico è continuare a farmi vivere contro la mia volontà. Vabbè. Barbarico è farmi vivere contro la mia volontà. Ciao Mario, ciao, ciao a presto, ciao, ciao. Ciao. Ragazzi, fra poco una grande sorpresa qui là.